Buon poveriggio a tutti e benvenuti all'interno di questo nuovo video del Calcio al Bario, sono Giancarlo Alberto e Marco Antonio, insieme ad Andrea vedremo due argomenti, principalmente relativi al mondo della Formula 1. Sì Andrea, torniamo a parlare di questo meraviglioso sport, perché? Perché c'è in corso il Gran Premio di Miami e Verstappen ha fatto qualcosa di straordinario, ancora una volta ha vinto la gara sprint, primo in entrambe le qualifiche, quelle del venerdì e del sabato, ma come lo ha fatto? Buon pomeriggio caro Giancarlo Alberto, a te e a tutti coloro che stanno guardando questo video. Un'altra magia di Verstappen ci troviamo a commentare. Aveva sofferto nelle prime due sessioni delle qualifiche della gara sprint del Gran Premio di Miami e poi quando ha messo le gomme rosse ha trovato il colpo. Paradossalmente Norris, che è andato più veloce di lui nella seconda sessione, poi gli è mancato l'ultimo atto. E questo ci testimonia quanto nello sport sia anche importante il fatto di rimanere ad alti livelli e sentire la fiducia in un determinato momento della stagione, della propria carriera e riuscire a tirar fuori dal potenziale che magari non soddisfa appieno quel leggero salto di qualità e quindi da lì altri due decimi scalati sul tempo che gli appariva dal volante e quando gli hanno comunicato di essere in pole position. Lui non ci credeva e noi che abbiamo visto fare a questo ragazzo olandese meraviglioso tante cose belle in pista ci crediamo che lui non ci credesse ma fino a un certo punto perché spesso anche i campioni, anche i più grandi, vedono i fantasmi laddove non ci sono. Sì Verstappen ancora una volta straordinario ma c'è qualche novità perché Adrian Newey lascerà la Red Bull e molte squadre vorrebbero accaparrarsi questo mago dell'ingegneria se mi passate l'espressione. Che cosa sta succedendo? Sì caro Giancarlo Alberto perché ieri c'è stata un'immagine anche particolare Newey ha guardato la Ferrari ma non un'occhiata veloce e poi è andato via ma l'ha guardata sulla griglia di partenza intensamente anche con un sorriso magari del tipo sì ci lavorerò io oppure un sorriso del tipo beh quanto mi piacerebbe mettere le mani da progettista su questa macchina è sembrata diciamo una mossa mediatica abbastanza astuta per lui che spesso lavora dietro le quinte soprattutto in un momento del genere e quindi sembra che quando andrà via da Red Bull la Ferrari possa essere una destinazione importante anche perché lui vorrebbe lavorare in Ferrari lui vorrebbe lavorare anche con lo stesso Lewis Hamilton che dal 2025 sarà un nuovo pilota della rossa e quindi si mormora nel paddock che la Ferrari avrebbe preso la strada giusta per i prossimi anni e quindi questo ha portato forse anche Hamilton ad andare via dalla Mercedes e accettare l'offerta ai Ferrari Mercedes che ha detto anche con Toto Wolf beh pure se ci fosse Adrian Newey non credo che potrebbe aggiustare il percorso di questa macchina e ciò testimonia innanzitutto come la Mercedes abbia sbagliato il progetto per queste ultime stagioni e che forse la pista che porta la scuderia tedesca sia più lontana e quindi resta concreta l'ipotesi della Ferrari per puntare di nuovo al mondiale per progettare anche in vista del cambio regolamento 2026 qualcosa di veramente diverso Infine caro Andrea passiamo alla domanda provocatoria e saluti finali un forte abbraccio dal vostro Giancarlo Alberto Sì caro Giancarlo Alberto passiamo poi alla domanda provocatoria Secondo voi la Ferrari è davvero sulla strada giusta per ritornare a vincere? Il bar è sempre aperto Grazie a tutti Grazie a tutti